Oltre. Questo è il titolo dell'inchiesta in formato podcast che si è aggiudicata alla tredicesima edizione del premio Roberto Morione, riservato ai lavori di inchiesta di giornalisti e giornaliste under 30. L'autrice Beatrice Petrella ha indagato il fenomeno della comunità Insel, i celibi involontari che odiano le donne. In tre puntate il podcast ha raccontato il viaggio sotto copertura in un mondo dove la violenza online sta uscendo dal web per diventare sempre più reale. Oltre è un'inchiesta che in tre puntate racconta un viaggio all'interno dell'universo Insel italiano. È un viaggio sotto copertura, è un viaggio difficile perché gli Insel, gli involontariamente celibi, sono uomini che odiano le donne. È un viaggio lungo per capire tante cose, ma soprattutto come uscire da questa comunità. Quando ho scoperto i podcast pensavo fossero il medium migliore per permettere allo spettatore di immergersi completamente nella storia. È un medium personale, intimo, e per questa storia secondo me era particolarmente adatto. Come di consueto, la serata della premiazione è stata preceduta da quattro giornate di dibattiti, proiezioni e momenti di confronto aperti al pubblico, unite dal tema Nonostante tutto, il giornalismo che non muore. Nonostante tutto, il giornalismo che non muore, questo è il titolo di questa tredicesima edizione del premio Roberto Morione, per due ragioni sostanziali. La prima è per quello che sta accadendo. Noi un anno fa eravamo qui con la dodicesima edizione a Torino ed era da poco successo la drammatica tragedia del 7 di ottobre e l'inizio di quello che era quella guerra, che a un anno di distanza, più di un anno di distanza, ancora segna così, proprio in questi giorni, in queste ore, in modo così significativo, la vita di tutti noi. Aggiungendosi a quello che è l'altro teatro di conflitto che ci tocca così da vicino, che è quello dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia. Nonostante tutto però è anche il ricordare, il voler ricordare tre giornalisti, amici che hanno perso la vita in situazioni, in teatri, di guerra per ragioni diverse. Forse davvero mai come oggi la libertà di stampa e la morte di tanti giornalisti nei luoghi di guerra è drammatica. E quindi è importante tenere accesa l'attenzione e fare il lavoro che i giornalisti devono fare, che è anche quello di denunciare quello che avviene e di cercare di combattere per una libertà di stampa, per il diritto alle informazioni di tutti noi, cioè di tutti i cittadini, che grazie al lavoro dei giornalisti sul campo possono essere informati rispetto a quello che accade. Nella serata finale è stato anche assegnato il premio Riccardo Laganà Biodiversity Sustainability Animal Welfare, novità di questa edizione. Ad aggiudicarselo la coppia formata da Caterina Tarquini e Francesca Sapio, autrici di Esotici Fuori Luogo, inchiesta video sul commercio di animali esotici. Lo spunto è venuto dal decreto legislativo 135 del 2022, che non ha ancora trovato piena attuazione, perché mancano dei decreti attuativi. Questo decreto si occupa del commercio e della detenzione degli animali esotici e quindi tutto è partito da lì, dal domandarsi effettivamente cosa fosse cambiato nel mercato. Per cui abbiamo cominciato a indagare il commercio degli animali esotici e quella zona grigia tra legalità e illegalità che consente comunque alle persone di fare degli acquisti non legali e tutte poi le conseguenze che questo ha in primis sul benessere di questi animali e poi anche sulla nostra salute. Il loro benessere è collegato al nostro benessere, nel senso che parliamo di ecosistema, nell'ecosistema è proprio una catena. Quindi abbiamo scoperto nel corso di queste indagini che abbiamo fatto che gli animali esotici possono trasmettere zonosi, che sono quelle malattie che poi vengono trasmesse dall'animale all'uomo e viceversa e sono molti di più gli animali che possono trasmettere rispetto a quelli che pensiamo. C'è proprio un discorso di importanza di sensibilizzazione.